buona idea pato roberto può fare il portiere roberto devi parare il pallone va tutto bene sembra un tostapane non è che sembra un tostapane lui è un tostapane roberto ti senti bene adesso sei un aspirapolvere che capita a proposito per pulire tutte queste fette di pane bruco ronfottino attenzione poco io hai salvato bruco e ronfottino molto bene roberto fai attenzione ma sei un ballerino bravissimo oh no roberto è fuori controllo dovete fermarlo mina presto nessuno è capace di spegnere roberto tu sai sicuramente come si fa nina ha portato qualcosa per giocare tutti insieme che divertente